Allora, Caterpillar IEM, buongiorno, senza Benedetta anche lei di nuovo con una ricaduta. Ebbene sì, buongiorno direttore, senza Benedetta e senza Marco Ardemagni, al mio fianco la splendida Cinzia Poli, perché Ardemagni è corso per un convegno a Roma, un convegno di noise from America sulla crisi e la riforma del mercato del lavoro. Buongiorno direttore. Buongiorno, allora, Ardemagni, Ardemagni, ora siamo qui. Ora lo intervisteremo come opinion leader, assolutamente sì. Come economista quasi, quasi come economista neoliberista, via. Beh, neoliberista, però lui è uno di quei liberisti che insomma un po' ha sentito... Alle vongole. Sì, sì, no, no, alle vongole, è un liberista serio che però si rende conto che per capire quello che succede forse bisogna utilizzare anche categorie degli ex antagonisti, diciamo, categorie keynesiane e anche marziane in qualche misura, ho sentito certe assonanze. Allora, avete parlato molto della Valle voi, no? Molto, molto, molto questa mattina nei giornali e soprattutto con le voci della Valle abbiamo sentito i sindaci della Valle di Susa. Abbiamo sentito tre sindaci, il sindaco di Chiomonte, Renzo Pinard, il sindaco di Valle, Lionello Gioberto e abbiamo sentito poi il presidente della comunità montana, Sandro Piano. Plano, plano, plano e loro sostanzialmente ci dicevano due cose. La prima, meno male che parliamo di ferrovia perché gli abbiamo chiesto di parlare della ferrovia, della linea ad alta velocità, cioè di tornare all'argomento da cui tutto era partito, di lasciare per un attimo da parte le vicende legate alla protesta, visto che poi l'ultimo bollettino medico lasciava beh sperare rispetto alle condizioni di salute di Luca Abba, per cui gli abbiamo chiesto di lasciare per un attimo da parte le vicende della protesta e di tornare a parlare della linea alta velocità, se ha senso farla o no. E allora, in quel momento tutti e tre i sindaci hanno in qualche modo invocato una sorta di moratoria, ci hanno detto ma insomma se si sono fermate le Olimpiadi a Roma non si può fermare anche questo progetto e provare a capire se vale la pena farlo o meno e questa era la prima cosa. La seconda era quella di cercare di ritrovare il dialogo e il buonsenso, dicevano loro. Il dialogo tra ovviamente gli enti locali, le istituzioni e chi è preposto a prendere le decisioni e chi invece di buonsenso sembra averne perso un pochettino per strada. Ci riferiamo ai giornali, questa mattina lei lo ha già fatto vedere, il titolo del giornale lo abbiamo commentato poco fa con Gianni Riotta, è forse un titolo che va al di là di quel confine che si dovrebbe mantenere in questi casi. Riotta ha detto c'è un confine che è l'umanità, che non va superato. E allora se c'è una persona in ospedale grave, in pericolo di vita, un titolo come quello del giornale di oggi, non so se lo vuole far rivedere, è un titolo che è solo un cretinetti, dice il giornale. Sì, l'umanità, non c'è dubbio. Io dico che oltre all'umanità ci sono due problemi in più sulle cose che dite. La prima è, va bene, vogliono una moratoria quelli della Val di Susa, hanno probabilmente ragione nel merito. La questione è che noi abbiamo un governo che deve dimostrare fra mille pressioni di andare avanti per la sua strada e abbiamo purtroppo, o per fortuna, secondo dei giudizi che ognuno di noi può dare, su questa vicenda del TAV una maggioranza larghissima di forze che hanno espressione in Parlamento, sui giornali, che è contro il giudizio che invece è prevalente nella valle, è per il sì. Certo. E quindi, tragicamente, mentre capiamo benissimo la manifestazione pacifica di sabato e anche la richiesta di una moratoria, tragicamente, lo dicevamo ieri a Revelli, a Ferrero, vediamo una situazione che abbiamo visto tante altre volte in passato, per esempio al sud, una lotta anche con aspetti ragionevoli, ma che è isolata e che se si radicalizza oltre un certo limite fa il gioco di chi la vuole distruggere. E purtroppo sì. Questo è il punto. Questa è la prima cosa. Invece su un'altra cosa, mi permetto di dire e poi mi taccio, solo un cretinetti non è soltanto un titolo che è ingeneroso, brutto, diciamo, è anche un riferimento improprio e parziale alle esperienze tragiche che questo Paese ha vissuto al tempo del terrorismo di sinistra, degli anarchici prima e poi invece degli autonomi. Infatti sul Libero c'era anche molto su questo. Allora, se noi vogliamo discutere della storia d'Italia, dobbiamo discuterla tutto tondo. Quali sono state le responsabilità della democrazia cristiana? Qual è stata la responsabilità del Corriere della Sera di Spadolini? Quali sono state le viltà? Perché non erano solo quelli che a sinistra dicevano sono compagni che sbagliano. C'è stata una grande parte della destra, a parte Montanelli, che è andato in rotta. Vi ricordate che è un partito che oggi viene considerato da una certa destra più impresentabile del partito fascista? Non da me, da una certa destra. Cioè il Partito Comunista fu chiamato e invocato in aiuto per risolvere questa storia del 78. Cioè se la storia non la si fa insieme, si sparano cavolate. Scusate la preoccupazione. No, no, ci mancherebbe. E aggiungo anche a voi che a proposito di questo ci saranno polemiche, ma io proporrò su Rai News un film sulle Brigate Rosse. Un film di un documentarista francese che quindi guarda la storia con distacco, perché è bene ridiscutere di quel periodo, ma ridiscuterne insieme, non discuterne come conviene a secondo delle opzioni politiche di oggi. No, sicuramente direttore, è quello che dicevamo, buonsenso e dialogo. In quel titolo del giornale di oggi non c'è né buonsenso né dialogo forse. Noi che pure avevamo amato il titolo sulla culona, sulla Merkel, qua ci sembra che siamo decisamente su un altro piano. E poi l'altra vicenda di oggi tragicomica, quasi quella dell'altra nave della costa che viene lasciata andare alla deriva al largo delle Seychelles. Poi nella notte è stata agganciata da un rimorchiatore francese, quindi la si sta trainando. Per i casi della vita il papà di un nostro collega, di Giorgio Lauro, uno dei conduttori di Radio 2, si trova lì alle Seychelles. La sorella stava aspettando i passeggeri della nave per portarli a delle escursioni a terra e a fare le attività di rito alle quali i turisti vengono sottoposti e quindi ci ha raccontato proprio dal porto delle Seychelles che cosa si vedeva da là. Tutto questo lo potete ritrovare ovviamente nel podcast di Caterpillariem, ma intanto io, Cinzia Poli qua sta facendo vignette a profusione, direttore, inizio a fargliele vedere perché ne abbiamo diverse oggi. Ormai è un cult dal sito reno24.it, la nostra Poli. Allora, questa è la prima Cinzia. Allora, la prima dice, è confermato che la media degli stipendi dei lavoratori italiani di 23 mila euro al mese, ha chiesto il ministro Severino. Eccola qua. Ha voglia della borghese aristocratica come l'ha definita, come le ha definiti i revelli. E qui ne abbiamo un'altra, voilà. Pierferdinando Casini ha mandato un tweet a Di Pietro con TVB. Di Pietro ha risposto civettando un po', poi è intervenuto Giovanardi e non se n'è fatto più niente. Ed ecco qua, anche Giovanardi vigila sulla buon costume. Fra i due innamorati Giovanardi, eh sì. Eh sì, sì, no, lo adoriamo. Ne stavo facendo una sul sindaco Alemanno, ma mi sa che non faccio in tempo. Il sindaco Alemanno ha incontrato Monti per la crisi di liquidità di Roma Capitale. Ancora non si è sciolta la neve a questo il Premier. Grazie Cinzia, grazie Caterpino. Allora, dopo la pubblicità, il nostro giornale con Lorenzo Dinasplassas. Allora, dopo la pubblicità, il nostro giornale con Lorenzo Dinasplassas.